ciao a tutti poco fa ho ricevuto questa bellissima pianta è una bromelia e mi è stata regalata da mia sorella e le mie super mega fantastiche bellissime stupende nipotine sveva e cloe volevo farvela vedere questa è una pianta che non avevo proprio mi mancava non l'ho mai proprio mai 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 avuta adesso grazie a loro ce l'ho anch'io l'ho vista nei negozi dal fioraio nelle mie vicine di casa che ce l'hanno ma io non ce l'ho mai avuta questo è un fiore io trovo che sia bellissima mie care ragazze io vi ringrazio tantissimo sono felice non potevate farmi regalo migliore qui c'è anche un bigliettino sotto che adesso andrò a leggere e poi anche il nome della pianta bromelia guardate anche qui tutti questi fiocchetti questi cuoricini io vi adoro sono felicissima non vedo l'ora di scartarla e trovargli un posto comodo dove posizionarla e farla star bene è troppo troppo bella purtroppo oggi una brutta giornata è più che la luce a lampadina siamo un po scarsi manca la luce naturale queste bellissime foglia io sono già innamorata bello bello veramente va bene adesso toglierò la carta troverò un posto e magari nei prossimi giorni vi parlo un po di lei come curarla e prendersene cura io ancora ringrazio le mie tre principesse mia sorella e le mie nipotine e niente ci vediamo domani con un altro video ciao ciao